Oggi per Global Web TV siamo insieme a Degle Possetti, presidente del Comitato dei Familiari delle Vittime del Ponte Morandi. Siamo al Parco della Radura, un luogo simbolo per ricordare ovviamente le 43 vittime del Ponte Morandi. A che punto siamo innanzitutto con il processo e cosa si sta facendo per arrivare ad una definizione, si spera non con tempi lunghissimi? Allora sì, il processo sta andando avanti in modo direi spedito anche rispetto alla mole di materiale, alla difficoltà di questo processo, perché è un processo complesso. Il Tribunale ha dato delle tempistiche molto strette di udienza, quindi abbiamo tre udienze a settimana e quindi impegnativo ma questo significa che si va avanti. È chiaro che il processo avrà ancora dei tempi lunghi prima di concludersi, però insomma cerchiamo di essere fiduciosi, lavoriamo con attenzione come comitato e come parti civili singole, con gli avvocati, con il nostro perito, perché si possa essere parte veramente attiva all'interno delle udienze. Questo è un luogo simbolo perché di fatto è un luogo da far vivere quotidianamente con iniziative. Che cosa siete riusciti a fare e quali sono le programmazioni per rendere questo luogo sempre più un luogo simbolo di Genova? Sì, allora qui c'è stata un'iniziativa di alcuni volontari, il signor Roberto, la signora Alba, l'associazione Dynamic Gym, loro hanno creato, diciamo, hanno fatto tutto questo grande enorme lavoro per portare qui alla Radura una manifestazione che appunto giochi senza barriere perché? Perché proprio il problema della disabilità, il problema dell'attività, il problema del riuscire ad essere comunque attivi con una problematica era un po' al centro della loro attenzione. Poi abbiamo appunto ritrovato anche delle similitudini, il fatto di dover lottare ogni giorno contro qualcosa è un po' quello che stiamo facendo noi, contro il dolore che abbiamo, contro quello che stiamo passando e continuiamo a passare perché comunque il processo sta andando avanti e non è semplice, oltre che essere lì, non è semplice anche riuscire emotivamente a gestire tutta questa ridda di emozioni, di lavoro che c'è da fare e quindi abbiamo tante cose in comune con le persone che hanno problemi di disabilità e questa manifestazione unisce tutto e soprattutto fa vivere quest'area con entusiasmo, con passione in qualche momento perché il ricordo dei nostri cari deve essere un ricordo rispettoso ma anche deve far sì che la vita in qualche modo possa andare avanti come stiamo facendo anche noi. A proposito del ricordo ci sono iniziative anche finalizzate a rendere questo ricordo vivo anche attraverso l'arte, attraverso la scultura, attraverso un monumento che possa ricordare quello che è avvenuto e farlo rimanere sicuramente centrale all'interno del cuore della comunità genovese. Sì, c'è un bellissimo progetto che hanno presentato i Lions di Genova e che è appunto un progetto a lungo respiro nel senso che si creerà una capsula del tempo che verrà aperta fra 50 anni perché fra 50 anni come potrete immaginare noi non ci saremo più, i ricordi saranno affievoliti e quindi sarà molto importante capire in quella capsula cosa andare ad inserire, ricordi delle persone che non ci sono più, magari delle registrazioni audio, dei video, un qualcosa che racconti quello che è avvenuto e quindi è un modo per avere all'interno della città, in un luogo simbolo della città, in un luogo importante, un momento di ricordo e un momento di riflessione per chi arriva nella città come turista e per gli stessi genovesi. Grazie a Egel Possetti per essere stati in nostra compagnia e grazie per il lavoro che portate avanti come comitato dei familiari delle vittime del Ponte Morandi. Grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate, è molto importante parlare di questa vicenda per ricordarla. Grazie.